Quali sono le tre domande che ti devi fare prima dell'asta iniziale per la scelta del portiere? Ciao, io sono Federico Viglino e questo è ProFantacalcio Prima di analizzare insieme i tre elementi decisivi che non devi assolutamente trascurare per la scelta del portiere prima della tua asta iniziale vorrei ricordarti la fondamentale parte, il fondamentale ruolo che ha il portiere in una rosa il portiere innanzitutto è il giocatore più soggetto a bonus quindi avere un portiere che incassa poco in tutte le giornate in quella specifica giornata in cui lo schieri è fondamentale per far sì che la tua squadra parta già con un plus ossia un portiere che non subisce gol che prende un 6 pulito e in confronto a un portiere magari che prende anche 7 ma subisce 3 o 4 gol equivale già a un gol segnato perché? Perché c'è una differenza già di 3 punti a tuo favore a favore del portiere che prende 6 pulito quindi la scelta del portiere è assolutamente fondamentale avendo un portiere piuttosto che un altro si decidono le partite conta che al fantacalcio sono decisivi anche 0,5 si vince per mezzo punto un punto quindi avere un portiere che ti garantisca una grande affidabilità e una assenza più marcata possibile nel tempo di malus è fondamentale per provare le basi per una squadra vincente detto questo andiamo a vedere qual è il primo punto per scegliere un portiere all'altezza della nostra fame di vittoria a inizio stagione durante l'asta iniziale il primo punto è consultare il regolamento e andare a vedere quali sono i bonus se ci sono bonus o modificatori relativi alla figura del portiere quindi il primo bonus che devi andare a cercare è se è presente nella tua lega il bonus imbattibilità del portiere se è presente il bonus imbattibilità del portiere che di solito equivale a un punto per ogni clean shot se il portiere non prende gol e equivale a un punto in più devi assolutamente puntare su un portiere di una squadra che secondo le tue previsioni, secondo le tue analisi, secondo i tuoi studi a fine stagione prenderà meno gol possibili perché? perché questo equivale a un più uno spesso e volentieri in più giornate durante tutto il campionato equivalebbe come a un assist di un giocatore di movimento e voi sapete, tu sai, quanto è importante avere dei bonus dei più uno in maniera costante quindi prima cosa che devi andare a vedere nella tua lega nel tuo regolamento devi consultare, leggerlo bene e guardare se è presente il bonus imbattibilità del portiere qualora fosse presente ti consiglio assolutamente di puntare su un portiere con una difesa solida davanti che possa garantirti quanti più bonus imbattibilità possibili durante la stagione il secondo elemento che ti consiglio assolutamente di tenere conto per quanto riguarda la scelta del portiere in fase di aste iniziale nei tuoi studi anche precedenti all'aste iniziale è la presenza o meno nel regolamento del modificatore della difesa adesso sul modificatore della difesa si potrebbe aprire un discorso ampissimo ci sono fanto allenatori che lo amano fanto allenatori che lo detestano e non lo prendono neanche in considerazione quindi a te la scelta sarai tu a decidere se sfruttarlo o meno ma se decidi di sfruttare il modificatore della difesa sappi che il portiere sarà l'unico elemento che sui 5 giocatori un portiere e 4 difensori almeno che concorrono al modificatore della difesa il portiere sarà l'elemento base su cui costruire un solido modificatore della difesa che vada a bonus per più giornate possibili magari non solo il più 1 ma anche il più 3 quindi se tu scegli di usufruire di questo bonus tratto dal modificatore della difesa scegli un portiere non solo che subisca pochi gol ma che sia anche spettacolare che magari venga impegnato più volte durante la partita che abbia sì una difesa solida ma che la squadra gli permetta anche di compiere magari qualche intervento decisivo un portiere che sia negli anni abbia dimostrato di essere affidabile abile e anche perché no spettacolare invece il terzo punto su cui dovrai basare la tua scelta per il portiere inizio stagione è la tua strategia cosa vuol dire? tu avrai studiato per tutta l'estate come affrontare l'asta per quella lega specifica e avrai studiato e imbastito la tua strategia quindi saprai quanto budget dedicare al portiere al reparto difensivo e in base alla tua strategia avrai una lista di nomi di portieri papabili che andranno a formare il reparto difensivo appunto della tua rosa insieme ai difensori quindi ricapitolando i tre elementi che devi assolutamente prendere in considerazione per la scelta del portiere sono la presenza del bonus in battibilità la presenza sempre nel regolamento del modificatore della difesa che sono bonus qualora tu decidessi di usarli molto importanti e il portiere è assolutamente un caposaldo di questa strategia relativa a usufruire appunto delle buone prestazioni del reparto difensivo e in ultima istanza avere una tua strategia che ti consenta in farnes d'asta di avere già selezionati i portieri ideali per la tua rosa e grazie alla tua appunto strategia che deciderai di usare per la formazione di tutta la rosa quindi tipicamente dei 25 giocatori che formano una squadra tu saprai esattamente su che portiere andare a puntare e cosa aspettarti come rendimento da appunto il portiere da te scelto e tu che portiere hai scelto per la tua rosa? col seno di poi sei soddisfatto della scelta? bene io ti ringrazio per la visione ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto il video e iscriverti al canale per vedere ulteriori contenuti ci vediamo al prossimo video a Grazie a tutti.